Benvenuti nel finale di sé Cioè guarda sono caduto per colpa tua Ma sai dove mi ha sponato? Nel livello precedente Benvenuti ragazzi Oh porca La dico io Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video di Jumpy Tech Oggi siamo qui nell'episodio finale Si spera altrimenti prendo E ci posso cannavazzo in terra Di cubical parkour E oggi siamo qui con Murray Prego cosa? Ah devo dire la tua la devo fare La fai cacare veramente Cioè io la tua la devo fare Tu la mia no Mi vergogno Murray come si fa? Cioè tutti i ragazzi qui ne possono sfruttare Cheeks Murray Siamo finalmente su questo porca Di livello Porca Mi hai fatto morire anche a me dall'altra parte del mondo E mi sono riportato nel vecchio livello Sì sì livello 9 guarda adesso c'ho livello 9 Minchia che sei forte ok Good luck cosa? C'è scritto in chat Vai guarda se muoio prendo giù E gli spacco le corna Porco Praticamente succede Ma che cos'è che mi fa morire porco Ho mancato un pulsante Ho mancato un pulsante Morio ce l'ho fatta Ho mancato un pulsante Per figa di dio Ah quindi se lo tocco lo piglio nel buco Ah Pisto coglione figa Passa Oh bravo Ah E chi minchia se ne ha accorto E adesso che cazzo facciamo? Secondo me si è fatto qualche altro percorso da qualche altra parte Aspetta secondo me tipo Cambiamo via Porco Prendiamo dietro Esatto esatto Giampaolo mi passi l'olio? Certo papà E infatti si deve andare qui E guarda E guarda che c'è il percorso Oh checkpoint qua checkpoint Boom checkpoint Mamma mia Mamma mia Se incomincio a morire Oh È morto Non ci credo C'è veramente la madonna Comunque ragazzi Dato che Smurri arriva Vi dico siamo che stiamo all'ultimo episodio di Cubical Parkour Questa sera che vi è piaciuta davvero davvero tanto Vi invito a lasciare tantissimi pollicioni qua sotto E appunto a consigliarci già adesso La nuova mappa che vorreste che noi facessimo Cioè stai camminando sotto l'acqua compà Mamma mia Sì Gesù camminava sulle acque e tu cammini Guarda 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 veramente quel blocco Porco Meramente che abbiamo visto questo checkpoint Minchia tutto a sto livello però sotto acqua è veramente un Ma non è difficile in realtà È che questa cosa va velocissima Va velocissima Mamma mia morri pounds Ma Allora aspetta aspetta Fallo passare Adesso 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 Stai attaccato al muro Ok perfetto 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 Ma perché muoio in questo punto Non è difficile Jump Perché che veramente Se non sei coordonato Te lo pigli nel bucciaccio del culo Aspetta Faccio passare blocco Maria Oxygen Ok Oddio ce l'ho fatta Oxygen Anch'io morri Mamma mia quanto strano all'inizio Sono due Ma questo è checkpoint Non capisco Ma che checkpoint Non è un capo Ma dove Ma è respirazione acquatica Guarda qua proprio c'è ossigeno Vivi a forever Guarda Cos'è sta cosa Non è capito No vabbè Non è capito proprio Sono due cose incrociate Dio santo Ecco No riparto da capo Madonna Certo Ma porco Veramente Ma non lo capiamo mai quella cosa Lo sai che ci perdiamo ora gli anni Perché non si capisce Che minchiazza Dobbiamo fare là Dobbiamo trovare un blocco Che non diventa mai verde E io l'ho trovato Aspetta Aspetta Leva la tua testa Arancione di cazzo Questo non diventa mai arancione Guarda Guarda che sono pro Guarda L'hai fatto No Morri Ma per quale motivo Ma perché sono morto E che non morivo mai In quel punto Minchia Il punto dove ci siamo bloccati Io non riesco a fare più Quello di prima Figa porca Figurati tu Manco io A parte che Che prendo Gesù E gli s... Minchia Isa Ce l'ho fatta Ora il problema E che qua Porca Ora da qui Dove minchia vado Ma perché non ci riesco più io Ok non sono morto Incredibile Ok questo quel punto Ormelo ho imparato Oh ce l'ho fatta Morri ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Sono passato proprio Tipo tranquillo Oddio ce l'ho fatta anche io Oddio Oddio Mamma mia Gesù Chi è il più forte Del regno dei cieli Adesso porca Oh adesso qui inizia Il parkour Vero e proprio Perfetto Ecco qui Che adesso devo andare in punta Come la punta della minchia Che me la ammolo Sbatto la testa Eh sbatto il porca Mi sa che Fatto Isa compagno Ma perché quando faccio le cose io Esatto Vai Guarda che mori anche tu adesso Ma porca Oh guarda qui che adesso è un altro salto di quelli che ci terrà i secoli dei secoli Amens Amori ti devo fare un complimento Nei commenti mi hanno detto che sei il Dante delle bestemmie Bellissimo questa Ce l'hai fatta Ce l'ho fatta anch'io Oddio Signore Ecco Madonna Del Mississippi Che sono il Dante delle bestemmie Veramente una cosa di cui non andare fieri io direi Ci sono scale morri Maria Dai compà Ci provi Come faccio Provaci tu io sono troppo in trip Porco Ce l'ho fatta Oddio Non è difficile Veramente È il salto più Minchia del seno No vabbè ti devi appizzarare le scale perché di sopra non ci può arrivare Niente Oddio Il salto finale abbiamo morri Vabbè spawn e crepo È una mattanza veramente I tonni stanno meglio quando li arpionano Minchia vai che stavolta ce la faccio a ucciderlo I tonni I tonni stanno meglio quando li arpionano Che cosa Non riesco più a premere i tasti morri sono debili Prendo Pronto Centralino Sì vorrei passato il signor Pronto sono il signore Continuo a bip oggi Basta Se partire da qui O da qui Parto da qui nel dubbio Ce l'ho fatta Porca troia Sì Non c'è checkpoint Ma ci sono blocchi che si muovono a non finire Oddio Non ci credo mai Levati Aspetta un par de palle Oddio Ha detto i blocchi che si si muovono Aspetta vi vedo dall'altra parte Ok Ho visto un blocco che Ecco Veramente Minchia che Che feto di d***a Io sono troppo concentrata Concentrata però Sì mi piace nel cu Minchia l'ho rotto veramente Guarda Ho fatto vedere i pezzi in video Aspetta lo rimetto se posso Che cazzo hai rotto? Pezzi di mouse Aspetta Oddio 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 Ed ecco Dai era normale che ti veniva avanti Perché sei andato lì Porco dia Guarda che inchiola cieca compa Vaffanculo Eh morivo Non è superato a questo punto È finita la malattia Perché All'inizio siamo andati avanti abbastanza bene Oddio 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 Ah ma l'hai bloccato Figa troia Sì ma l'hai bloccato me ne sono accorto adesso Mincia ma l'hai bloccato Mincia Morri ti prego facciamo un figlio qualcosa non lo so Veramente prendiamo Gesù Lasciamolo stare a Gesù Mamma mia Mamma mia non ci credo Morri non ci credo Non ho nemmeno esultato perché Sì proprio siamo talmente spenti Avevo il cervello in pappa Cioè proprio che cazzo esulto Non ce la faccio esultare Comunque lo sai alla fine come ho cercato Ho più o meno seguito la logica Ho fatto a zig zag in diagonale Mincia che me l'hai bloccato veramente Mi ha dato un sollievo ti giuro se mi vedi dopo in cam Io proprio mi sono accasciato sulla sedia Con le mani in testa perché ho detto ok Questa non c'è Morri perché stai spaccando Morri non farlo ma porca troia Morri non sono incredibile Va bene comunque ragazzi Questa mappa è finalmente finita Ragazzi veramente qualcosa di assurdo Stra difficile Questo pensiamo sia stata la mappa più difficile Che noi abbiamo mai giocato Ed è stato così vero Morri Sì perché è quella più difficile che abbiamo mai fatto Perché vi sono Manco il creeper posso mettere Tra contento che questa mappa vi sia piaciuta Davvero davvero un sacco È andata benissimo E appunto per questo vi chiedo qua sotto nei commenti Di scrivere una mappa così difficile Così bestemmiosa Se vorreste che noi giocassimo appunto Nella prossima serie Come sempre Io non lo faccio Tu lo farai Morri Ti costringiamo Io e tutti i miei iscritti Quindi ragazzi Vi invito a lasciare tantissimi Tantissimi pollicioni in su Non metto un tetto Siete voi di buon cuore Lasciatemi le tanti Se vi è piaciuto appunto Lasciate un bel pollicione in su E ciao ciao Who the fuck is HP Baxter Iscriviti al nostro canale Iscriviti al nostro canale